I lavori di bonifica saranno completati definitivamente in primavera ma con ragionevole certezza si può affermare sindora che la discarica di Lamartella a Matera è sul percorso di superamento dell'infrazione comunitaria che ci sarebbe potuta costare, quantificata dalla Corte di Giustizia Europea, anche centinaia di milioni di euro. I compiti a casa che il commissario regionale avrebbe dovuto svolgere con una dotazione di 10,5 milioni di euro sono stati eseguiti e cioè spostare la sovrabbanco, mettere in sicurezza e chiudere il terzo e quarto settore. Su entrambi è stato realizzato anche il cosiddetto tapping, cioè una tappatura, quello che serve ora è la certificazione di ARPA per Regione Basilicata. La Regione, come riferisce più abiusi di ambiente legalità, avrebbe voluto collaudare a fine corsa, in realtà ci si potrebbe arrivare anche per la fine dell'anno, non oltre la fine di dicembre, quindi dovrebbe essere emesso il provvedimento di chiusura della procedura di infrazione. Restano poi altri lavori dell'appalto non necessari al superamento dell'infrazione ma quelli sì potrebbero essere chiusi a partire dalla prossima primavera, montaggio dell'impianto di trattamento del percolato e quello di trattamento del biogas. Completati i lavori d'appalto la competenza dell'impianto torna ad essere di competenza della Comune di Matera, ci sarà da realizzare il tapping per il primo e secondo settore e c'è comunque da ultimare la colmatura del quinto per il quale occorrono circa 20.000 tonnellate di rifiuto umido stabilizzato. Quale sarà il futuro di quella piattaforma? Sicuramente si potrebbero recuperare finanze coprendo i settori chiusi con pannelli fotovoltaici. Non è da sottovalutare inoltre la possibilità di valorizzare in loco il rifiuto differenziato senza trasportarlo lontano dalla città dei Sassi.